Assessore, lei è assessore in veste tecnica perché sappiamo che lei in passato è uomo del PD vicino alle posizioni dell'onorevole Pelillo. In che veste? Tecnica o politica? No, assolutamente tecnica. Io ho avuto modo di... Lei è scritto al PD? Sì, sì, come no? Allora è politica, non è tecnica. No, no, no. Il ruolo per il quale io sono in giunta è per un motivo tecnico. Io ho curato con Rinaldo l'aspetto relativo alla programmazione comunitaria. Ho fatto un bel lavoro.